L'assessorato regionale alla salute ha stanziato 5 milioni e mezzo di euro per rafforzare il piano di sicurezza destinato alle guardie mediche dell'isola. I fondi serviranno ad adeguare i sistemi di allarme esistenti e alla installazione di telecamere a circuito chiuso in quei presidi che ne erano sprovvisti. In Sicilia, come fa sapere la regione, sono 395 le guardie mediche operanti sul territorio. 215 sono dotate di collegamento con le forze dell'ordine. La necessità di potenziare i sistemi di sicurezza è diventata quanto mai impellente a causa di gravi episodi di violenza a danno del personale medico e di vandalismi contro le stesse strutture. Episodi che hanno fatto alzare la soglia di allarme e di attenzione. L'iniziativa dell'assessorato regionale alla salute è partita dopo la violenza sessuale subita da una dottoressa in servizio alla guardia medica di Trecastagni nel Catanese.